Il 19 ottobre, quando sono entrato la mattina a fare sei due, come se niente fosse, solito, come faccio da 23 anni, alle otto del mattino che è arrivato un ragazzo che fa giornata e ci guarda e ci dice, cosa fate qua? E noi facciamo sei due, è tutto chiuso qua, guardate che chiude qua, è l'ultima giornata oggi, al momento ci hanno messi a ridere noi, io sempre, tanto qua non chiuderà mai, voglio dire, anche perché quando sono entrato mia mamma me l'ha detto subito, qua hai trovato il pane a vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.